Ragazzuoli, ciao a tutti, è arrivato quel determinato periodo di tempo, ecco, quello dove ci dobbiamo mettere l'elmetto, fondamentalmente è avere particolare pazienza, come ormai è quasi un mantra che cerco di dirvi da un paio di giorni a questa parte ormai, dato che fino a prova contraria non sappiamo nulla e non ci sono delle risposte certe riguardo questa vicenda. E perché dico che è il momento di mettersi l'elmetto? Beh, perché come banalmente c'è scritto anche all'interno del titolo è partita una vera e propria macchina del fango, ma obiettivamente non da oggi e riguardo i temi di oggi ci arriviamo tra poco, ma proprio nel momento in cui, dal momento in cui è uscita la notizia delle dimissioni del CDA, perché tutto questo è stato di conseguenza accostato ad un qualcosa di talmente tanto grave, parlando ovviamente poi di punti di penalizzazione serie B, ma qualcuno si spinge oltre e arriva fino addirittura alla radiazione e questo ovviamente non fa altro che destare sospetti, dare certezze a chi è contro puntualmente, però è normale che invece il tifoso, anche in maniera legittima vedendo quella che è stata la portata dell'evento, è normale che si ponga dei dubbi, si ponga degli interrogativi, nonostante si parli di un processo in atto da qualche anno appunto e che ha avuto già due gradi di giudizio, quindi insomma per quanto indubbiamente possano sempre uscire cose nuove, le sedi competenti già in un paio di circostanze si sono espresse nel merito, ma ovviamente qui vedremo come andranno avanti i fatti e le vicende, però appunto si fa fatica in determinate circostanze a parlare proprio di cose nuove ed è qui che mi leggo inevitabilmente alla questione legata alla macchina del fango che è partita, perché per esempio oggi su qualche giornale è uscita un'intercettazione riguardo Cherubini e il suo avvocato che parlavano della famosa carta a Ronaldo che non doveva uscire perché altrimenti sarebbero stati casini e bla bla bla, non tanto di Ronaldo che adesso pare incentivato a chiedere questi 19 milioni che la Juventus gli avrebbe dovuto dare e già qui, strana come tempistica nel senso fino a tre giorni fa nessuno sapeva assolutamente nulla riguardo la posizione del CDA della Juventus, oggi sanno quelle che sono le volontà di Cristiano Ronaldo che in questo momento si sta giocando un mondiale e presumibilmente non ha parlato assolutamente con nessuno, ma non è neanche tanto questo il punto che tanto, vabbè, i giornali lo sappiamo, devono vendere, devono parlare, devono inevitabilmente cavalcare l'onda del momento e chi ti fa fare più clic della Juventus in Italia, beh, ben poche cose, hanno semplicemente deciso di tirar fuori, cercando evidentemente di spacciare queste notizie per nuove, delle notizie di dicembre 2021, dove a meno che non siamo qui a festeggiare l'anniversario di queste notizie, viene fuori un pochino, no? Strana, curiosa questa tempistica proprio in questo momento dopo la notizia del CDA, nel senso perché tirar fuori nuovamente delle cose di un anno fa in questo determinato periodo di tempo spacciandole per nuove. Poi, per carità, noi non sappiamo quali siano state le valutazioni nelle sedi competenti riguardo queste dichiarazioni, sicuramente sono state ascoltate persone, sono state fatte valutazioni di cui oggi noi non abbiamo risposta, questo indubbiamente sì, però spacciare per nuove cose di un anno fa, che erano state riportate dalle stesse persone un anno fa, facendo pensare che quindi siano cose nuove, fresche di oggi, mi stona onestamente un pochettino come cosa, se posso essere sincero, così come ovviamente poi ogni giornale dà un'interpretazione diversa e tira fuori delle cifre a caso nuove che pare siano, anzi che pare non siano state messe a bilancio, in questo caso penso sia questo il termine un pochino più giusto da utilizzare con ogni giornale che dà una nuova versione, una versione differente, non nuova, una versione differente sugli stessi argomenti, con giornali che poi ovviamente iniziano a parlare di penalizzazioni, di retrocessioni, di cose di questo genere, di che cosa rischia la Juve e tutte queste cose qui, ma fondamentalmente si sta muovendo appunto questa macchina che pare evidente, ormai da un paio di giorni a questa parte abbia solamente un determinato fine e nel momento in cui si parla appunto di macchina del fango il fine viene da sé, penso sia una banale conseguenza del nome ed è per questo che per l'ennesima volta vi invito alla giusta calma, non eccessiva, perché eccessiva no, eccessiva forse è meglio di no, però quantomeno da aspettare aggiornamenti reali, concreti e soprattutto dalle sedi competenti, non dalle sentenze via giornali, anche se effettivamente sembra di vivere un flashback, un altro discorso questo qui, però alla fine sì, il tema vuole essere anche questo, vediamo, aspettiamo, non facciamo cavalcare l'onda in particolar modo agli altri, a quelli che non vedevano l'ora di sputare del fango dando via a questa macchina, oh con calma, sicuramente ci saranno degli aggiornamenti, magari ovviamente anche nel corso del tempo sarà una cosa un pochino lunga più che altro perché è normale quando si parla di queste cose, semplicemente devi ascoltare, devi dare la possibilità di rispondere, quindi indubbiamente ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo probabilmente anche parecchio lungo mi viene da pensare, adesso vedremo come si muoverà anche la Juventus di conseguenza, dato che sappiamo che i nuovi membri del CVA, tra cui il Presidente, probabilmente sono proprio persone di questo mondo, del mondo dei bilanci, persone in grado di saperti dare delle risposte, saperti rispondere nel merito a determinate cose e per il resto banalmente come al solito vedremo però appunto con l'elmetto, vedremo con la giusta calma ma con l'elmetto perché probabilmente ce ne sarà bisogno. Grazie a tutti!